Musica 13 settembre 2016, buongiorno a tutti e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV Sul canale 17 c'è la rassegna stampa, occhio ai giornali che comincia come di consueto con il santo del giorno Vediamolo subito, oggi è San Giovanni Crisostomo che è stato, anzi dottore della chiesa, è nato d'Antiochia verso il 349 Il sole è stato anche vescovo, il sole è sorto alle 6.46 e tramonterà a 19.23 Il tempo per oggi, avremo cielo sereno poco nuvoloso con locali rovescio temporali nelle zone interne nel pomeriggio Le temperature sono senza variazione di rilievo Domani, mercoledì 14 di settembre, cielo sereno poco nuvoloso con addensamenti sulle vette più alte nel pomeriggio Non avremo grosse precipitazioni, soprattutto vedete sulla costa dove invece splende il sole E rovescio temporali probabilmente sulle zone montane dell'entroterra meridionale Temperature lieve diminuzioni nei valori minimi, per giovedì 15 settembre il cielo si guasta un po' Con rovesci sparsi dalla tarda mattinata più probabili sul settore centro meridionale Le temperature sono in lieve diminuzione Dunque c'è un probabile transito di una saccatura che porterà aria fredda nei prossimi giorni Da giovedì in poi, però rimarranno condizioni di tempo stabile Allora andiamo adesso a leggere i giornali, cominciamo dal Corriere Adriatico L'edizione di Pesaro che apre con le spese facili Quelle dei consiglieri regionali, Presidente, eccetera, eccetera Ebbene, sono stati quasi tutti prosciolti Il GUP sgonfia l'inchiesta sulla Regione Sei rinviati a giudizio su 66 Assolti, spacca e comi Dunque, scrive Andrea Taffi del Corriere Adriatico Il nulla di fatto E un vuoto troppo grande da colmare Poi la foto per le scuole Le scuole che stanno riaprendo in questi giorni 10 milioni per renderle più sicure Investimenti anche per l'adeguamento sismico A Pesaro solo due istituti sono con il certificato antisismico Sono finiti i disagi al Santa Marta di Pesaro Tornano gli studenti Travolge un vigile con lo scooter È stato arrestato dopo la fuga Questo è un richiamo in prima pagina E poi il Fano questa sera si prepara Ad ospitare il Padova per il primo urrà L'appuntamento alle 20.30 allo stadio Mancini di Fano Andiamo adesso sulle pagine interne del Corriere Adriatico Allora, arriva il comandante pilota Questa è la pagina di Fano del Corriere L'aeroporto prova a decollare Giuseppe Belli, già professionista di Alitalia È stato nominato amministratore unico Dunque amministratore unico della società Fanon Fortune Nomine che è avvenuta ieri nel corso di una nuova assemblea dei soci Che si è svolta nella sala della concordia del Comune di Fano I tre enti pubblici titolari di quote sono il Comune di Fano La Provincia e la Camera di Commercio Intendono adesso dare una nuova chance alla società Che fino a ieri sembrava sull'orlo della liquidazione Dobbiamo, dice Giuseppe Belli Lo vedete in questa immagine, in questa fotografia pubblicata sul giornale Dobbiamo rivedere le smagliature dei progetti perseguiti Dice, intesa tra Comune e Provincia E Camera di Commercio si punta adesso alla pista in cemento L'ospedale, la sintesi politica non può essere fosso segliore Sinistra Unita ribadisce il suo no E auspica un'idea chiara di sanità pubblica E ancora le pagine di Fano del Corriere Adriatico La stagione estiva di sole e di stranieri Gli operatori sono soddisfatti Comunque il giugno piovoso ampiamente recuperato ad agosto I turisti sono in aumento Gli stabilimenti balneari ora iniziano a smobilitare Ma ancora ci sono ospiti appunto in città E questa è la pagina 41 del Corriere Adriatico Poi la cronaca Un pauroso incidente, un pauroso schianto a Rosciano di Fano Sbaglia il sorpasso, provoca una carambola Tre le persone ferite, tra cui anche un bimbo di sei anni Una donna resta incastrata nell'auto piegata su un fianco Coinvolte altre due vetture Sul posto i vigili urbani Due ambulanze del 118 Il pronto soccorso che accerta per fortuna Soltanto ferite lievi Il brodetto non basta per tutti Ed è polemica Alcuni operatori replicano Noi l'abbiamo servito Impreparati E quindi questa è una missione Siamo stati impreparati Dal numero e dall'affluenza davvero grande di visitatori La più grande rotatoria non porta da nessuna parte Questa è la rotatoria di Via Trave a Fano Evidenzia vistose carenze amministrative e programmatorie I lavori sono quasi terminati Ma in Via Trave l'Interquartieri non trova sbocchi Un tetto invece per la BCC Arena Obiettivo condiviso Cooperative comune soddisfatti della stagione Vedete sotto il presidente della cooperativa Bartolucci Con l'assessore Fanesi 40 anni di pittura tra Pretini e Scorci Fanesi Presentato il libro sull'arte di Antonio Fortuna Dipinti esposti anche a Parigi E poi ancora dal Corriere La pagina della Valle del Cesano Serve inclusione, non demagogia La CISL di Fano contro la polemica Dell'amministrazione di Pergola Sull'accoglienza dei migranti In tutti i comuni, dice il sindacato Sono stati firmati accordi Per l'integrazione di questi profughi Segnati dalla guerra Da Baldelli Il sindaco ci aspettiamo Ci saremmo aspettati Che avesse favorito il processo di inserimento Da Marotta Sei mesi di lavoro per trentenni disoccupati Il centro per l'impiego Ha illustrato l'opportunità per giovani ed aziende Bomba sul tetto di un pollaio Siamo a Mondolfo Ecco la fotografia Di questo proiettile di mortaio Che è collocato vicino al bordo Tra i due tubi Certamente si fa fatica A riconoscerlo In mezzo a tutto questo marasma Però cerco di aiutarvi E di agevolarvi Ecco, con l'aiuto dei pennarelli Eccola qua Eccolo qua Il proiettile di mortaio Spero di aver beccato quello giusto Sì, dovrebbe essere quello Perché è tutto di un monocolore La scoperta è di un agricoltore Di cento croci Non so da quanto tempo sia lì Dice lui Il proiettile non esploso Di un mortaio Dell'esercito tedesco In ritirata Nel 1944 Non c'eravamo mai accorti Di nulla Dice Né tantomeno Pensavamo di correre dei rischi Non so cos'è più pericoloso Se il mortaio Il proiettile Oppure l'amianto Ma comunque Il fatto è che È stato individuato Adesso certamente Avrà tolto E spero un po' Bonificato tutto Il gruppo in vacanza Marotta Ha reso omaggio Alla quercia dell'amicizia Gli amici tedeschi A Mondolfo Questa città Ifezeim Non so se si pronuncia così Gemellata appunto Con Mondolfo Senigallia Eccola qua Offerta formativa E qualità La scuola viaggia A tutto gas Dirigente comune di Senigallia Fanno il punto Sugli istituti scolastici Sulle classi E sui progetti Valzer di parroci Nelle diocesi Sono I cambiamenti Che ha annunciato Il vescovo di Senigallia Monsignor Franco Manenti Che ha ridisegnato La mappa degli incarichi Nelle chiese Di tutto il territorio Don Paolo Campolucci Sare il primo Ad insediarsi A Brugnetto La cerimonia Il 24 di settembre E mentre Per ora A Senigallia Sono tutti lì Buoni Che In obbedienza Al proprio vescovo Giustamente Accolgono Le nomine I passaggi I trasferimenti Di un sacerdote Da un posto all'altro A Pesero invece Il Valzer Non c'è Non piace O meglio È una musica Che non piace E si stanno organizzando Per Addirittura Per protestare Contro Contro Lo spostamento Il trasferimento Di un parroco Di un parroco Da una parrocchia Ad un'altra E Cerco di Arrivare Per collegare Questa notizia A quanto appena detto C'è un articolo Sulle pagine Di Pesero Evidentemente Adesso non c'è Vabbè Comunque sia Addirittura Ecco Quelli di Santa Veneranda Stanno pensando Di fare Un sit-in Di protesta Davanti alla Curia Per Protestare Contro lo spostamento Di Don Rossini Al suo posto Arriverà Don Marco Di Giorgio Nella parrocchia Santa Veneranda E questo È un trasferimento Che non piace Però Ai fedeli E quindi Hanno chiesto Anche un incontro All'arcivesco Piero Coccia Allora Andiamo avanti adesso Con le altre Notizie Velocemente Andiamo sulla Pagina di Pesero Del Corriere Adriatico Tifosi da tutta Italia Per capo Lacrime Per Massimiliano Capanna Morto ieri in bicicletta Nel giorno del suo compleanno L'ultimo saluto Nella chiesa del Porto Saranno presenti Anche Gli ultra I tifosi Del Fano Simpatia Per Casa Pound E passione Per la Visse Gli amici Dicono Un uomo vero Per questo Va rispettato Ed è La notizia Che troverete Sulla pagina Di Pesero Del Corriere Adriatico Prima Valbar Guardate questa notizia Invece A pagina A pagina Undici Prima Valbar Per chiedere lavoro Poi spacca La vetrata Per fare razzia Guardate che cosa Ha combinato Quest'uomo Che con un tombino Ha infranto le porte Del supermarket Di altri locali Che poi per fortuna È stato bloccato Dai carabinieri L'allarme L'altra sera In pieno centro L'arresto L'arresto È stato convalidato Ma l'uomo Si trova già In libertà Come si trova Già in libertà Il senegalese Che Ha Affrontato Il giorno Uno dei giorni Della fiera di San Nicola L'altro giorno Il vigile Pesarese E lo ha mandato K.O. A terra È stato arrestato Tutto quanto Ecco E Alla fine Insomma È già libero Da Vallefoglia Invece Un altro vigile Che ha avuto A che fare Con Con Un cittadino Il vigile Gli intima Di fermarsi Lo travolge In scutere Fugge L'investimento A Montecchio Arrestato Per tentato Omicidio Un 28enne L'uomo Ha dato la colpa Al panico Ha avuto paura Dice lui Era senza patente E senza assicurazione Lo credo bene La gente Sarà Il poliziotto Sarà comunque operato Adesso Non dovrebbe Avere Ripercussioni Dal punto di vista Della Salute L'aggressore Eccolo qua Vedete la notizia Abbiamo trovato Sia la notizia Del paroco Sia dell'aggressione Eccola qua Dunque L'aggressore Del vigile È già libero Salto in fiera Al senegalese Dieci mesi Ma con pena sospesa Verrà espulso In quanto clandestino La confcommercio Si scaglia Contro gli abusivi E dice Reagiamo ora Anche a costo Di azioni Impopolari San Nicola Ha chiuso il bilancio Degli organizzatori Che si dicono soddisfatti Una fiera Comunque Con Tante persone Eccola qua L'altra notizia Che vi dicevo Poco fa Parroco Trasferito A Santa Veneranda Santa Veneranda In corteo I fedeli Stanno preparando Un'iniziativa Davanti alla curia Don Michele Rossini Che appunto Il parroco di Santa Veneranda Sarà trasferito Al suo posto Arriverà Don Marco Di Giorgio Alcuni dei parrocchiani Però del quartiere Stanno preparando Una manifestazione In segno di protesta Oggi alle 16 Hanno chiesto Di poter incontrare Il vescovo Piero Coccia Per spiegare i motivi Della loro presa Di posizione Chiaramente I sacerdoti Sono chiamati All'obbedienza Al proprio vescovo E quindi Devono semplicemente Obedire E trasferirsi Senza Proferire parola Il discorso A volte è un po' diverso Per i fedeli Ma in realtà Anche per loro Dovrebbe essere così Cioè Il vescovo È il pastore Dei fedeli Quindi bisogna Obbedienza Anche se A volte Ci sono Cose O decisioni Che potrebbero essere Così dolorose Ma insomma È così Da sempre Andiamo sul Resto del Carlino La pagina di Fano Sport Eccolo qui Il Fano ci riprova E Granata Questa sera Ospitano il Padova Con l'obiettivo di vincere La prima partita In casa Accusati Se il mister Del Fano Parla di un avversario Di livello Daremo però battaglia Borrelli Sempre in forse Il resto del Carlino Velocemente Ecco la pagina principale Tutti assolti Questo è il titolo Per le spese pazze In consiglio regionale Bocciata la tesi Della procura di Ancona Prosciolti Pesaresi Oltre a Gian Mario Spacca E Francesco Comi La giunta Tira giù la casa colonica A Pesaro Era messa Peggio del previsto Costruita nel 1872 Era l'unica Rimasta Nel parco Miralfiore Inutili Tutti gli appelli Per tentare di salvarla In veste il vigile Con il motorino Come dicevamo È stato arrestato Ecco I consiglieri Che sono stati Quelli pesaresi Quelli che sono stati Assolti Rabbia e sollievo Tra loro Tutti prosciolti Vedete in alto da sinistra Mirko Carloni Poi Luca Acaccia Scarpetti Roberto Giannotti In basso da sinistra Elisabetta Foschi Gino Traversini E Roberto Zaffini L'affondo di Acaccia Scarpetti Che dice Adesso chi mi risarcisce Dei danni subiti A causa dell'indagine Ho perso La candidatura E Mirko Ricci dice Sono felice Per il Partito Democratico La pagina di Fano Velocemente Chiudiamo Aeroporto Belli gioca la carta del rilancio Ma prima Voglio fare luce Sui debiti Fano fortuna L'ex pilota All'Italia È il nuovo Amministratore Poi Il 17 di ottobre Sulle termine di Carignano Il 17 ottobre Le termine andranno all'asta Chiesti 20 milioni di danni Per questo Pignoramento Immobiliare E poi ancora Festival del Brodetto Edizione record Brodetto polverizzato Dall'assalto dei Bongustai Confesarcenti Gongola 20% Di affluenza in più Luca Travaglini Vince la gara Degli amatori Mietti Della Confesarcenti Definisce il festival Un festival Dal successo pieno Bimbi Prigionieri Del cantiere Ora a scuola Come ci vanno L'appello delle mamme Di via Fanella Create un passaggio Dicono Le scuole Nuti e Poderino Sono a pochi metri Ma impossibile Raggiungerle Se non con l'automobile Carambola sulla Flaminia Paura per un piccolo Di sei anni Una donna incastrata Nell'abitacolo Tre le auto Coinvolte All'altezza di Cucurano Nutrie Ucciderle È illegale Primo round Dunque agli animalisti Siamo a San Giorgio Di Pesaro Lo ricorderete Il sindaco Aveva firmato Un'ordinanza Per l'abbattimento Delle nutrie Il problema c'è Dice il primo cittadino Ritireremo L'ordinanza Ma intervenga La regione E a Cartoceto Invece Un concerto Tra gli ulivi Aspettando Il festival E preparativi Al via È tutto Grazie per aver seguito La nostra rassegna stampa A voi tutti L'augurio di una buona giornata Arrivederci Grazie a tutti